ciao ragazzi come state bentornati a tutti in questo nuovo video come potete vedere non sono davanti ad una macchina e non sono neanche a casa mi sono preso tre giorni di vacanza sono qua con ginevra che è qui si sta registrando con il telefono perché date le camera solo in macchina e speriamo non si vedano le mani ci siamo presi questa vacanzina come potete vedere dallo sfondo siamo al mare e ci troviamo a forte dei marmi più precisamente ci troviamo al tuiga di forte dei marmi penso di fare dei vlog giornalieri o un video unico però l'obiettivo era quello di rifare un video dopo che torno al mare dopo ben nove anni ebbene sì come ho appena detto io non vado al mare dal da pasqua 2012 e comunque ora siamo a forte dei marmi vi porterò dei video del tuiga così come è strutturato ma anche delle supercar perché per chi non lo sapesse a forte dei marmi ci sono sempre delle supercar stupende comunque ora io sto studiando come potete vedere qua qui c'è ginevra che ovviamente non sto facendo niente e qui potete vedere quanto è bello il tempo e ginevra mi ha portato a prendere le sue focaccine preferite di valet penso qualcosa del genere mi rompeva tanto però finalmente siamo riusciti sono riuscito a portarla e abbiamo preso 20 tanto per non rimanere tanto per non per rimanere senza senza appetito e niente ora stiamo tornando al tuiga perché facciamo merenda la e ora passiamo per il centro io in tutto ciò sto andando in bici appena passato una la ferrari rossa stupenda sei contenta ma se ne è appena mangiata uno va bene abbiamo 20 model 3 verde opaco guardate che bello sotto carica qua possiamo vedere una rs5 avanti guardate che bello di questo colore e qui che spunta fuori una aston martin super leggera di b5 sei nera porsche porsche e qui guardate questa urus arancione che bella veramente stupenda e pinze sempre arancioni comunque ora vi voglio far vedere la stanza perché siamo tornati in albergo come potete vedere ho i capelli bagnati perché ho appena finito di fare la doccia e ve la faccio subito vedere volevo subito dirvi che siamo all'hotel san maurizio giusto g4 stelle qua due metri dal centro ora vi faccio subito vedere la stanza allora mettiamo il grande angolo questo quasi sono io pantaloncini me l'ha regalati la giga anche la maglietta quindi non dice niente se no si arrabbia lei allora questa la stanza e questo è il primo bagno con il water vabbè e lì il primo non mi viene in mente vabbè qua ginevra questo letto e questa la doccia questa si era la piccola stanza volevo farvi un piccolo tour della nostra stanza ora vi farò vedere tra poco forte le marmi di sera perché mi dicono mi hanno detto che è veramente veramente molto bella come vi stavo dicendo prima qua forte ci sono sicuramente sempre dei mezzi molto interessanti qua possiamo vedere un f8 tributo nuova montecarlo la targa e qui una 488 pista e qui davanti un porsche vecchio carriera allora benvenuti nel giorno 2 praticamente ora stiamo partendo in bici come potete vedere ci stiamo dirigendo al tuiga il tempo veramente veramente stupendo perché c'è questa riettina ci sono un sacco di francesi comunque il tempo come stavo dicendo veramente veramente stupendo ginevra qua ciao ciao e qui la vespa cosa vuoi la vespa di dior davanti a dior poi nuovo modello stupendo veramente veramente inglese inglese perché la bentley insieme alla stone martin alla jaguar sono marchi inglesi tra poco andiamo a prendere da mangiare il tempo non è stupendo perché come potete vedere è abbastanza nuvoloso però dovrebbero dovrebbe migliorare nel pomeriggio se non mi sbaglio ora vi lascio una clip in verticale caspita non sono riuscito a farla in orizzontale siamo andati all'augustus a spoilerare la ferragni vi consiglio di seguirmi su tiktok vi lascio qua sotto il link perché ho appena fatto un tiktok della ferragni e vi consiglio di andarvelo a vedere comunque nella prossima clip vi lascio non il tiktok perché sennò ho problemi di copyright però vi lascio il video non ancora editato raga 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 guardate questo gt3 guardate che bello ecco qua altri mezzi guardate questo mercedes e qui 488 quello di ieri sera qui un altro ferro che bello questo qui a 45 mg mamma che bello questo portofino 488 pista 911 non sono sicuro del del modello di questa secondo me non me lo dico ah sls ecco raga guardate qua bentaiga 4x4 della bentley 35 mg è appena è appena passato un gt2 e un gt4 veramente veramente stupendo oggi comunque il comunque ad ammirare questa maglietta rosa che mi ha regalato ginevra della mc2 oggi il tempo non è stato dei migliori però devo dire che ora che sono tipo 6 e mezza se non mi sbaglio si sono un po' abbronzato ma non tanto perché ha anche piovuto è uscito il sole ed è veramente veramente incantevole e rilassante allora prontissimi per andare a cena poi dopo andiamo in centro come ieri sera però ovviamente rigorosamente maglia lamborghini perché 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 solo io ce l'ho migliori youtuber no non è vero se abbiamo finito la cena ora stiamo andando in centro allora ripetiamo parte 3 abbiamo finito la cena ora stiamo andando in centro ci sarà sicuramente qualche mezzo molto interessante e niente speriamo meno gente di ieri perché anche perché siamo in bici è appena stato un incidente praticamente una macchina è finita contro ad una tesla e ora è arrivata è arrivata la polizia questa è un'altra anche questi stavano facendo un incidente ma se vedete qua c'è più gente si praticamente questa è nera si è schiantato contro una tesla cacchio e niente praticamente è finito che ho preso la macchina più scacciona e sono ultio non uso neanche il volante oramai il vero buongiorno forte dei marmi è quando si va in spiaggia in bicicletta rigorosamente però si vedono si iniziano ad intravedere delle auto stupende ho appena visto una cayenne turbo s e hybrid è il top di gamma del cayenne ed è un'auto bellissimo onestamente ci farei veramente un video perché i cavalli ne è un sacco in più è pure ibrida e quindi è cattivissimo girafa buongiorno oggi abbiamo cambiato tenda ma guardate che che onde che ci sono mamma mia ma che bella questa molto vicino al mare raga guardate questa 911 verde che bello v10 r8 mamma mia se bella gucci auguri grazie no ma raga stavo arrivando qua ma guardate che sberle mi sono trovato davanti guardate quanto cavolo sono grosse una e due cioè veramente abnormi però guardate che bella serata veramente stupenda e niente da questo video è tutto spero che questo video vi sia piaciuto nel caso lasciate un like iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima con nuovissime bellissime supercar ciao 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 ciao